Buongiorno a tutti, grazie per aver accettato un invito a partecipare oggi e grazie, mi rivolgo prima di tutto agli insegnanti per la disponibilità con la quale gli insegnanti di questa regione hanno accompagnato il concorso che il Comitato organizza ormai da tanti anni. Ringraziamento agli insegnanti che ci sono stati negli altri anni, gli auguro di buon lavoro a quelli che quest'anno per la prima volta seguiranno le tre tracce indicate e un ringraziamento naturalmente ai nostri istituti storici per la resistenza che svolgono un lavoro straordinario nei nostri territori e senza il lavoro dei quali la memoria di quanto è successo, ma non solo la memoria, anche i progetti per il futuro non rappresenterebbero la stessa cosa, un lavoro di grande competenza, di grande disponibilità, io direi anche di grande passione civile senza la quale questa roba non potrebbe, diciamo così, essere fatta. Prima di entrare nelle questioni io vorrei ricordare con voi un uomo che è morto due giorni fa e i cui funerali si terranno domani e che si chiamava Ferruccio Maruffi. Ferruccio è stato partigiano combattente in Val di Lanzo, è stato nel campo di concentramento di Mauthausen ed è stato uno, diciamo così, degli uomini più convinti che la memoria di quanto è successo dovesse essere in qualche modo tramandata, ricordata soprattutto ai ragazzi. Credo abbia accompagnato tantissime volte, almeno per chi c'è stato, i ragazzi della nostra regione nel campo di concentramento di Mauthausen. Ferruccio aveva, mi pare, 91 anni e quindi c'è un momento, lo dico da medico, in cui la nostra vita si conclude, ma con lui Piemonte perde un testimone straordinario e un uomo per bene. Quindi, se volete, gli rivolgiamo un applauso perché secondo me Ferruccio sarà merito. Veniamo alla ragione per la quale siamo qui oggi. Mi pare che l'edizione precedente, la 34esima, questa è la 35esima, abbia avuto un buon risultato. Io ho incontrato i ragazzi che hanno partecipato soprattutto al lavoro organizzato in Bosnia, a Zebrenica e mi sembrava che fossero davvero contenti di esserci stati. Si erano in qualche modo rimpossessati di un pezzo di storia dell'Europa che, come tutti sappiamo, non hanno avuto il rilievo, l'importanza è stata un po' dimenticata. Abbiamo presentato con Marco Travaglini a Fondo Toce il film, come si chiama già Marco? Il regista è Giacomo Battiato, che è il regista della Piovra, quindi un regista importante, che racconta la tragedia di quanto è successo in Bosnia a Zebrenica 20 anni fa. Abbiamo detto con Marco, che ha scritto un libro su questo argomento, che se tutti noi ci chiedessimo che cosa è successo l'11 settembre del 2001, quando furono distrutte le Torri Gemelli, probabilmente ce lo ricorderemmo tutti. Io ero a Rivoli nel mio ufficio, dove ho fatto il sindaco per dieci anni, e mi avvisò la segretaria, quindi me lo ricordo anch'io. Se però chiedessimo a tutti noi cosa facevamo l'11 di luglio del 1995, quando furono uccise dieci mila persone a Zebrenica, secondo me nessuno di noi se lo ricorda, perché è un pezzo di storia che ha avuto poco risalto, nonostante tutti gli uomini di Zebrenica siano stati uccisi e sia rimasto un paese di sole donne. Quindi un risultato positivo, diciamo così, del lavoro precedente e i temi che oggi saranno presentati, che voi seguirete, su cui i nostri ragazzi si concentreranno, mi sembrano altrettanto interessanti rispetto a quelli che sono stati presentati l'anno scorso. Il tema numero uno è la strategia delle tensioni e gli anni di piombo, la stagione del terrorismo. Voi sapete, lo dico in un attimo, che questo comitato, di cui è l'onore di essere Presidente, è nato nel 1976, quando il terrorismo rosso e nero imperversavano a Torino e nella nostra regione, uccidendo magistrati, poliziotti, imprenditori e avevano soprattutto i terroristi l'obiettivo di scardinare lo Stato democratico. Il comitato nacque appunto per riaffermare il senso dello Stato e il senso delle istituzioni. Tra il 1976 e il 1988 furono organizzate più di 1300 iniziative, incontri nelle scuole e iniziative nelle fabbriche. Sui muri di Torino comparverono i manifesti, noi non abbiamo paura. E se il terrorismo fu sconfitto, lo si dovette naturalmente al lavoro dei magistrati e delle forze dell'ordine, ma anche al fatto che i torinesi e i piemontesi si schierarono contro i terroristi, tant'è che poi finalmente si riuscì a celebrare il primo processo delle Brigate Rosse e da lì si avviò una stegione che condusse poi alla sconfitta. Ogni tanto qualche fantasma ritorna, invitato da qualche organizzazione che guarda indietro, diciamo così, con gli occhi distorti. Ma non ci possiamo fare niente. Un uomo che ha, diciamo così, saldati i suoi debiti con la giustizia, un uomo libero che può andare dove vuole. I piemontesi, diciamo così, non hanno voglia di ascoltare né le sue parole né di rivederlo, ma questo appartiene poi alla storia di ognuno di noi. Quindi un tema di grande importanza, che è utile per ricordare quello che è successo in quegli anni disperanti. Secondo il professore Enrico Pagano, direttore di Stuto Storico della Resistenza del Biellese, Vercellese Valsesi e il professor Mario Renosio, direttore di Stuto Storico della Resistenza di Asti, si occuperanno di sviluppare, giusto? Correggimi se sbaglio, questo tema. Il secondo tema è la Repubblica e la trasformazione della società italiana. Il professor Gigigarelli, un compito questo, diciamo così, straordinario, perché è un tema che abbraccia, diciamo, la storia del Novecento e tutto quello che è successo nel nostro Paese. E il tema numero tre, migrazioni, muri, controponti. Anche questo io credo che sia un argomento che opportunamente noi discutiamo con i nostri ragazzi. Perché diciamo ogni tanto che dopo l'otto settembre del 1943, gli uomini italiani fecero una scelta. Ci furono quelli che scelsero di combattere con la Repubblica di Salò, ci furono quelli che scelsero invece di salire con i partigiani in montagna, ci furono i 600.000 ex internati militari, gli IMI, che piuttosto che combattere contro il proprio Paese, scelsero di andare in un campo di internamento, in un campo di lavoro in Germania. Anche oggi c'è una scelta di questo tipo. C'è chi ritiene, ed è una scelta che attiene in qualche modo alla democrazia, il futuro di un Paese, che queste persone vadano accolte, che questi uomini, queste donne e questi bambini abbiano il diritto, non potendo vivere nel loro Paese, di cercare un altro luogo nel quale costruire un futuro per se stessi e per la propria famiglia. C'è chi ritiene invece che vadano aiutati nel loro Paese, come se fosse possibile oggi aiutare qualcuno in Siria o in Tunisia. E quindi se i ragazzi si occupano di questi temi, che sono ogni giorno proiettati dalle televisioni, che animano il dibattito politico, io credo davvero che questo sia un tema che ci darà la possibilità di capire anche su questi argomenti cosa pensano i nostri ragazzi. Sarà perché faccio il medico di mestiere, ma io non riesco a dimenticare quella bambina di 12 anni, diabetica, salita su uno di quei barconi, suo padre credo che fosse ingegnere, aveva quattro figli e la moglie con lui, oltre a questa bambina gli schiavisti hanno buttato in acqua l'insulina che sarebbe servita a quella ragazza e la bambina è morta durante il viaggio. Abbiamo naturalmente tutti i figli, figli che coccoliamo, che accudiamo, del futuro dei quali ci preoccupiamo, dato che non c'è differenza tra i nostri figli e questi ragazzi, quello che è successo dovrebbe davvero far riflettere soprattutto le persone che ritengano che sia difficile aiutare questa popolazione che cerca un futuro. Quella bambina, Aylan, un bambino di tre anni sulla spiaggia di Kos, a quelle della mia generazione, dico il professor Garelli soprattutto che conosce uno storico, ricorda il bambino con le braccia alzate nel ghetto di Varsavia, ricorda Kim Pook, la bambina che fuggiva nuda nei dintorni di Saigon, una fotografia storica, dopo un bombardamento al Napalm da parte degli americani, ricorda il bambino con i cantoncini corti su cui si china la madre in plaza di Catalogna, Barcellona, durante la guerra civile spagnola. Queste immagini appartengono alla tragedia dell'umanità e quando l'umanità riguarda soprattutto i bambini, in qualche modo devono avere più rilievo. Io non avrei nient'altro da aggiungere. La prima parte di questo pomeriggio sarà a cura del CSI Piemonte che presenteranno dei servizi informatici per il progetto di storia contemporanea. C'è una piattaforma informatica di sostegno al progetto sulla quale naturalmente loro sapranno che cosa dire. Vi ringrazio ancora una volta per averci accettato, per aver accettato il nostro invito, per il lavoro che farete durante l'anno con i ragazzi e vi auguro buon pomeriggio e soprattutto, visto che siamo all'inizio, buon anno scolastico. Grazie.